Interrogazione al Consiglio Comunale e al Sindaco per sapere i motivi che hanno portato al danneggiamento al parchè del Pala San Nicolò dopo l'Octoberfest. Sì, soprattutto per fare chiarezza, perché bisogna capire che cosa è successo dopo questo evento. Quindi io non punto il dito con gli organizzatori, anzi, però i cittadini mi chiedono di capire perché vivono in questa città e devono sapere, io pure come consigliere di opposizione, nel mio ruolo per sapere appunto che cosa è successo. C'è stata una commissione pubblico spettacolo per dare le autorizzazioni a questo evento. Bisogna capire se c'erano effettivamente, sono certo che c'erano le autorizzazioni, ma chiederò appunto queste autorizzazioni e bisogna capire adesso chi paga i danni del Pala San Nicolò perché ci sono stati dei danni. Quindi dopo questo evento uno arriva al Pala San Nicolò e trova tutto questo parchè. Quindi perché i cittadini devono anche capire perché sborsare dei soldi, perché questi sono soldi pubblici che i cittadini pagano, paghiamo attraverso le tasse e quindi bisogna capire di chi sono le responsabilità. Quindi oggi, come consigliere d'opposizione, voglio chiarezza.